Ormai tutti sognano su sti social media di diventare milionari, miliardari, senza fare un cazzo, senza lavorare. Esatto, perché abbiamo capito che lavorandoci si fa il culo e si rimane poveri come la merda, invece sui social se sei bravo a non fare un cazzo puoi guadagnare, vai te a lavorare, grande Flavio, grande.